Ragazzi, nuovo video. Allora, ci stiamo avvicinando auspicabilmente alla riapertura delle palestre e ancora più auspicabilmente alla fine del periodo lockdown. Sicuramente torneremo alla normalità tra tanto tempo, probabilmente fine 2021, quel che vi pare. Però lockdown, chiusura delle palestre, si spera che sia un qualcosa che non ricapiti più. Per cui, questa è una tematica che volevo affrontare e secondo me questo è il momento migliore, ossia come migliorare la qualità del nostro lavoro in sala. Perché tante persone mi chiedono sempre, Ludo, come posso imparare a spremermi? Come posso imparare a capire che non mi sto spremendo abbastanza o che potrei far di più? Come posso migliorare la qualità del mio lavoro? Voi sapete che alla base di tutto quello che è il bodybuilding, ormai qualcosa di abbastanza pacifico, c'è tanta qualità di lavoro, qualità intesa come forma, quindi massima precisione nell'esecuzione di quel che dobbiamo fare e in seconda battuta l'effort, ossia l'intensità che andiamo a creare, a veicolare all'interno della nostra serie, più nello specifico del nostro distretto muscolare. Che da un punto di vista, diciamo, terminologico, sia a parole, è molto semplice, molto chiaro, ma da un punto di vista pratico è molto difficile perché tante persone si trovano nella situazione in cui non riescono concretamente a veicolare tanta intensità nelle proprie sessioni di allenamento e realmente non sanno come muoversi o anche allo stesso tempo non sanno se si stanno spremendo abbastanza o se potrebbero far di più. Quindi ci sono sicuramente dei modi per lavorare su queste abilità, anche se parto col dire che l'esperienza e quindi anni e anni di pratica fa da padrona, quindi dovete avere pazienza perché ogni anno vi accorgerete che state facendo meglio rispetto all'anno scorso. Però con la riapertura delle palestre possiamo, ci troviamo di fronte a un bellissimo momento in cui riazzerare tutto quanto e fare un'operazione di reborn, quindi di rinascita e risettare tutta quella che è la nostra abilità e modus operandi in palestra. Quindi il mio invito con questo video è quello di ascoltare bene attentamente tutto quanto, segnarvi i vari passaggi, ragionarci sopra e mettere in atto tutto quel che diremo quando le palestre riapriranno. Quindi magari farò dei video successivi. Comunque sto parlando molto, soprattutto su Rhino Nation, su come comportarvi in questa fase di lockdown. Sto pubblicando là delle schede che potete seguire e vi state distruggendo, vi state trovando bene. Sicuramente darò una scheda come ultima scheda prima della riapertura delle palestre, in modo da gettare tutti i presupposti affinché ritorniate in palestra più carichi che mai, belli, freschi e in grado di spingere a dovere. Però ciò detto, vediamo esattamente come comportarci quando torneremo in palestra. Ossia cerchiamo di fare in modo che il nostro ritorno in palestra combaci con un reset del nostro modo di approcciarci alla sala che ci permetta di massimizzare la qualità di lavoro. Quindi vi darò degli step da seguire in queste prossime settimane, in questi prossimi mesi di riapertura. Il primo step in assoluto, quindi saltiamo direttamente al pratico, è quello di diminuire il vostro volume di allenamento. Il problema principale per cui le persone non riescono a spremersi è che fanno troppo volume, quindi a monte hanno tanta moli di lavoro. Quindi se io mi trovo davanti a una scheda di 20 serie allenanti di gambe, è logico che alla prima serie, prospettandomi di avere davanti tutta una carrellata di serie allenanti tartassanti, non dico che sono conservativo, però non la affronterò mai nella maniera migliore. Immaginate di dover fare una maratona, ok? Sicuramente la partenza vi porterà ad essere un po' più veloci, sarete più energici, andrete a spingere inizialmente, però sapendo di dovervi fare una maratona davanti, parlo logicamente per i meno esperti, perché i più esperti sanno esattamente come partire e come affrontare il tutto, però dovendo fare una maratona davanti non partirete mai in maniera sprintosa, mentre invece se avete un 100 metri che dovete fare, allora sin da subito partite a palla di cannone, come si suol dire. Quindi partite con uno sprint massima potenza, perché avete soltanto quei 100 metri a disposizione per dare il massimo e per riuscire a portarvi a casa il miglior risultato possibile e battere i vostri competitor, in questo caso, quindi gli altri atleti. Per cui sostanzialmente il primo passo è quello a monte di ridurre il volume, ossia non dovete aspettare che sia l'intensità a portarvi a una riduzione di volume, ma che sia la riduzione di volume di per sé a farvi entrare in una modalità di lavoro che vi permetta di spremervi al massimo. Quindi il mio consiglio, molto molto semplicemente, è quello di selezionare 3 o 4 esercizi per ogni singolo distretto muscolare, quindi 3 o 4 esercizi per il petto, 3 o 4 esercizi per la schiena, 3 o 4 esercizi per le spalle, per i tricipiti, per i bicipiti, per le gambe, eccetera. E magari per le gambe un pochino di più, perché ne faremo magari 3 per i quadricipiti e 3 per i femorali. Comunque, selezionate questi esercizi e fate una sola serie allenante per ciascuno di questi esercizi. Ora ovviamente nella selezione degli esercizi dovrete essere maniacali su quelli che sono gli esercizi migliori per voi, che sentite meglio. Nella nostra Academy sto proponendo diversi esercizi che sono i migliori per ciascun distretto muscolare. Quindi quando stiamo analizzando il petto, lo sapete bene, il video successivo sono gli esercizi dedicati al petto, parliamo di dorso, il video successivo sono gli esercizi migliori per il dorso. Quindi per chi sta nell'Academy fate riferimento a quegli esercizi che sono in assoluto quelli che possono permettervi di sviluppare al meglio il distretto. Però nella maggior parte dei casi basatevi sulle vostre sensazioni. Quindi scegliete quei 3 o 4 esercizi che vi permettono di sentire e percepire al meglio il distretto che vi permettono di essere fluidi e di massimizzare la vostra performance. Quindi dovete essere fluidi in un movimento, dovete avere la capacità di spremervi, dovete sentirvi a posto, settati e poter veicolare la massima intensità possibile sul distretto target. Quindi 3 o 4 esercizi. Per quanto riguarda il rep range, anche in questo caso, per chi sta nell'Academy su Renonation ho dato il rep range ideale per ciascun esercizio, quindi state all'interno di quel rep range, non andate né troppo in alto né troppo in basso, ma quel singolo esercizio fatelo cadere all'interno di questo rep range. Generalmente potete stare tra le 8-12 ripetizioni. In base all'esercizio, in base a come vi sentite, se per un determinato esercizio non vi sentite di caricare tanto la state più vicini alle 12 ripetizioni, se su un altro esercizio vi sentite di poter caricare tanto in maniera fluida e concentrare bene il lavoro sul distretto target, allora state più vicini alle 8 ripetizioni. Però comunque per questa prima fase di start-up state tra le 8 e le 12 ripetizioni. Quindi, ricapitolando, 3-4 esercizi, una sola serie allenante, come va affrontata? Semplicemente portandola al cedimento concentrico. Ossia, facciamo un esempio, le dips. Vi trovate benissimo a fare delle dips. Siete dei campioni, lo scegliete come esercizio per il petto. Quindi andate là, vedremo tra un attimo come fare il warm-up, puntate a cedere sulle 12 ripetizioni, per esempio, avete il vostro carico, il vostro sovraccarico. Allora, arrivate a 11 ripetizioni, che l'undicesima la chiudete a stento. A questo punto voglio che fate una dodicesima ripetizione, scendete, spingete e magari riuscite a chiudere anche la dodicesima. Non vi dovete fermare qua. Avete soltanto quella serie per quell'esercizio. Dovete dare veramente il massimo e creare quella qualità di lavoro veramente al massimo e capire esattamente qual è la qualità di lavoro che dovete portare all'interno di ogni serie allenante. Quindi, chiusa la dodicesima ripetizione, mantenendo una forma sempre impeccabile, questo è il presupposto base, allora scendete in eccentica, inziate a spingere e probabilmente se avete azzeccato il carico, quindi partiamo dal presupposto che abbiate azzeccato il carico, allora vi troverete nella situazione che non riuscite a chiudere la ripetizione. Ora voglio che continuate a spingere come dannati finché non vedete che iniziate a perdere home, quindi iniziate ad andare in eccentrica sostanzialmente, il muscolo inizia ad allungarsi perché non riesce più a sostenere quella posizione, quindi non solo state cercando di spingere in alto e mi raccomando dovete cercare di spingere in alto come disperati, quindi cercando di chiudere la ripetizione il muscolo inizia addirittura a cedere qualche tratto di home. Ecco, questo è un cedimento sostanzialmente isometrico, nel senso che il muscolo non riesce più a mantenere neanche la stessa posizione e qua logicamente andate e vi fermate, non dovete arrivare a un cedimento eccentrico, però quando vedete che iniziate a perdere quei piccoli grati allora siete sicuri di aver raggiunto un massimo cedimento. Questo perché è importante? Perché molti di voi facendo questo lavoro con quel carico probabilmente faranno 15-16 ripetizioni, andranno molto in là perché si renderanno conto di quanto in realtà si stavano risparmiando inizialmente. Quindi con questo tipo di lavoro nel corso delle settimane aggiusterete bene il carico ma soprattutto capirete esattamente che cosa vuol dire portare una serie al limite, che cosa vuol dire portare una serie al cedimento e capirete come gestirlo, come farlo nel corso delle diverse settimane. Quindi che impatto vi dà da un punto di vista di recupero e verosimilmente se la forma è ottimale il recupero sarà anche abbastanza efficace, abbastanza veloce rispetto a fare tonnellate e tonnellate di volume e disperdere energie. Soltanto che la differenza è che lo stimolo sarà tutto concentrato all'interno del distretto muscolare target. Ora il secondo step, che in realtà è un primo step, però il secondo punto è quello di curare bene il warm up. Ossia, normalmente molti sono abituati a fare tante serie, tante ripetizioni soprattutto di warm up per scaldarsi. Ecco, non dovete fare così. Abbiamo detto che per ogni esercizio avete una sola serie allenante. Benissimo. Ovviamente il presupposto è che facciate tutta una modalità, un percorso di avvicinamento in modo da massimizzare la performance di questa singola serie allenante. Ho già parlato del warm up, quindi rimando al video dedicato al warm up per capire esattamente come farlo. Generalmente quello che voglio da voi è che facciate una prima serie sulle otto ripetizioni, più o meno con un carico basso, poi una seconda serie aumentando leggermente il carico sulle sei ripetizioni, poi iniziate a lavorare sulle quattro ripetizioni, sulle tre ripetizioni, sulle due ripetizioni, mentre aumentate il carico. A questo punto raggiungete il carico target, fate una sola ripetizione per sentire bene il carico e da là vi riposate, prendete tre minuti di recupero e partite con quella singola serie allenante. Ovviamente ragazzi è un lavoro molto dispersivo, molto poco denso, ma è l'unico in grado di permettervi di gettare questi presupposti per migliorare e massimizzare la vostra qualità di lavoro. State sul semplice, prendetevi il vostro tempo, quello che dovete fare, quello su cui vi dovete focalizzare è massimizzare quella singola, dannatissima serie allenante, perché è l'unica occasione che avete per raccogliere uno stimolo quanto più importante possibile su quello specifico esercizio che avete scelto. Ora faccio un esempio pratico, normalmente in un mio loading set, quindi la serie più pesante, vado a caricare quattro pizze per parte, quindi sostanzialmente, con la banda, io utilizzo la banda elastica, quindi sostanzialmente sto sulle sei, otto ripetizioni con quattro pizze per parte. Benissimo, farò una prima serie con una pizza per parte, soltanto, da otto ripetizioni, poi metto una pizza e mezzo, quindi un disco da venti, un disco da dieci, faccio di nuovo otto ripetizioni, due pizze per parte, farò sei ripetizioni, due pizze e mezzo per parte, farò quattro ripetizioni, arrivato alle tre pizze per parte, farò due, tre ripetizioni, tre pizze e mezzo per parte, farò forse una ripetizione o due, tre se me la sento, a questo punto arrivo a quattro pizze per parte, faccio una singola ripetizione, mi prendo tre minuti di recupero e parto con la mia serie allenante. Ragazzi, è un lavoro che è poco denso, me ne rendo conto, però questo vi permette di non accumulare fatica e vi permette soprattutto di rendere massimo ed efficace lo stimolo. Vedete così, dovete ragionare sul creare e portarvi a casa quanto più possibile da quest'unico stimolo, quest'unica serie allenante che avete a disposizione per quell'esercizio, quindi essere performanti su questa serie allenante è la base di tutto. Se andate a fare dei warm-up troppo impegnativi o recuperare poco o lavorare in maniera troppo densa, sì, create uno stimolo alternativo che può essere più o meno efficace, ma non in questa fase, perché semplicemente riducete la performance, perché vi mettete in difficoltà, questo è. Quindi, prendetevi il giusto tempo di recupero e lo scopo è quello di ragionare e migliorare la vostra qualità di lavoro, quindi andate a migliorare questa qualità di lavoro dannatissima, ok? Quindi concentratevi su questo. Ora, terzo punto è quello di ridurre la frequenza di allenamento. Ora, potete lavorare con una split a tre o quattro giorni, il che vuol dire una push-pull X più sosto che una Dorian Yates split e di questo abbiamo ampiamente parlato, diprende dalle vostre scelte personali, quindi, da questo punto di vista non mi soffermo. Però comunque, il mio consiglio inizialmente è lavorare con un solo allenamento a settimana di questa split, quindi in questo caso lavorare con tre o quattro allenamenti a settimana, quindi push-pull X lunedì, mercoledì e venerdì, piuttosto che Dorian Yates split lunedì, martedì, giovedì e sabato, per esempio. Ora, perché questo? Frequenze così basse non sono assolutamente l'ideale in termini generali, ma in questa fase è importante perché vi permette di dare più tempo di recupero perché avrete molti DOMS una volta tornati in palestra perché gli schemi saranno di nuovo nuovi, così come il metodo di allenamento vi permette di avere più giorni di riposo per un riposo generalmente sistemico e soprattutto ci permetterà e ci arriviamo al quarto punto di capire esattamente qual è la vostra frequenza di lavoro ideale, ossia stiamo gettando la base di qualità, adesso iniziamo a vedere fin dove potete spingervi mantenendo questa qualità e arriviamo finalmente al quarto punto, ossia quello della progressione, dovete iniziare a progredire, quindi già dalla seconda settimana cercate di progredire una prima progressione è quella sui carichi quindi nella seconda settimana lasciate tutto invariato ma cercate di battere la performance che avevate fatto la settimana precedente così già vedete imparate a prendere dimestichezza con i carichi vedete dove riuscite a migliorare quanto margine avete eccetera eccetera quindi questo è un primo step che sicuramente dovrete includere già dalla seconda settimana e che dovrete mantenere costantemente iniziate a cercare di capire come vi sentite quanto state recuperando bene verosimente starete recuperando molto molto bene perché comunque la frequenza di allenamento e il volume generale permette un recupero massimo a questo punto il mio consiglio è quello di aumentare a partire dalla frequenza di allenamento quindi iniziate già ad aumentare un filino la frequenza come aumentate un filino la frequenza? mantenete sempre la stessa split semplicemente aggiungete un giorno in più di allenamento quindi faccio un esempio facevate una push pull legs lunedì mercoledì e venerdì vi sentite di poter spingere un po' di più per esempio il weekend eccetera ok perfetto mi alleno passo ad allenarmi 4 volte a settimana quindi farò push il lunedì pull il martedì il mercoledì vado a recuperare il giovedì vado a fare le mie gambe e il sabato quindi recupero il venerdì il sabato vado a fare di nuovo push quindi ricomincio dall'inizio la domenica riposo che cosa andrò a fare il lunedì? pull quindi la split è su 3 giorni però la vado a impostare su 4 giorni di allenamento ok? non so se è chiaro sostanzialmente ho 3 giorni che vado a spendere però li divido su 4 giorni quindi semplicemente ricomincio un filo prima stessa cosa se mi allenavo 4 volte a settimana inserite un 5 giorno di allenamento di nuovo se vi sentite che state recuperando bene da un punto di vista sistemico e specifico muscolare quindi per esempio facevo la dorian yate split petto bicipiti dorso deltoidi tricipiti e gambe allora a questo punto vado a fare lunedì petto bicipiti martedì vado a fare dorso mercoledì vado a fare deltoidi e tricipiti il giovedì il riposo il venerdì vado a fare gambe il sabato riparto da petto bicipiti domenica riposo e lunedì continuo facendo dorso e così via quindi sono 4 giorni però una split a 4 però distribuita su 5 giorni settimanali questo mi permette sostanzialmente di mantenere lo stesso splittaggio ma semplicemente diminuire i tempi di recupero dei singoli distretti muscolari ok questo è già un secondo step importante abbiamo aumentato la frequenza adesso continuiamo a cercare di battere il nostro log quindi di migliorare la nostra performance avremo meno recupero meno tempo di recupero e vediamo come va verosimilmente anche in questo caso il recupero sarà ottimale se gestirete bene l'alimentazione se gestirete bene il sonno eccetera eccetera da qua ulteriore step sempre in ottica di progressione iniziate ad aumentare le serie allenanti quindi iniziate a cercare di aumentare il volume di allenamento piccola parentesi il volume in realtà è aumentato già aumentando la frequenza perché se consideriamo il volume come numero di serie allenanti all'interno di un singolo microciclo andando a chiudere comprimere un po' il tutto il numero di serie allenanti in realtà va ad aumentare non so se è chiaro il concetto comunque ci ritorneremo magari in un altro video però comunque in sostanza andiamo avremo già aumentato il numero di serie allenanti all'interno di un tempo circoscritto e delimitato perché semplicemente abbiamo compresso la mole di lavoro che stiamo facendo comunque iniziamo ad aumentare il volume per le singole sessioni di allenamento quindi e qua vi incoraggio ad avere un'opera di diciamo report e feedback molto importante che è quello che io chiedo ai miei atleti io mi chiedo sempre prima di tutto i feedback come ti senti quanto stai recuperando delle singole sessioni di allenamento cosa senti di poter aumentare come ti senti di spingere come sta andando come va il carico in questo modo so esattamente cosa aggiungere e dove aggiungerlo quindi semplicemente cercate di capire quali sono gli esercizi in cui vi sentite di fare di più le sessioni in cui vi sentite di fare di più che recuperate bene per esempio sul petto porca vacca sto recuperando veramente veramente bene mi sento di fare un po' di più perché esco sempre quella cosa che potrei far di più potrei dare uno stimolo successivo ulteriore però sulle gambe non riuscirei assolutamente a far di più perché già così le sento piuttosto affaticate e recuperano a mala pena quando le rialleno successivamente perché spingo tanto perché carico tanto per qualsiasi discorso ok perfetto sulle gambe le lascio così come stanno aumento un filino su un esercizio per esempio di isolamento mentre sul petto vado ad aumentare concretamente come aumentare 3-4 esercizi sono già un numero di esercizi sufficienti quindi il mio consiglio in questa fase di aumentare semplicemente il numero di serie sui singoli esercizi quindi mantengo sempre gli stessi esercizi in questo caso farò la mia serie che stavo facendo aggiungo una seconda serie su 1-2-3 esercizi in base a come state recuperando benissimo aggiungo una seconda serie verosimilmente il mio consiglio è di aggiungerla su un rep range differente quindi se stavo facendo una serie per esempio di smith chest press sulle 6-8 ripetizioni andrò ad aggiungere una serie sempre di smith chest press in questo caso sulle 12-15 quindi carico un 20% in meno e sparo sempre con la stessa modalità lo stesso concetto di spingermi al cedimento esometrico una seconda serie continuo a far così finché a un certo punto non raggiungerò il mio overreaching quindi arrivo a un punto in cui sono stanco affaticato e di questo magari parleremo in un altro video e da là dovrò semplicemente scaricare però occhio perché alla fine di questo lavoro avrete visto quale frequenza riuscite a sopportare bene qual è il volume che avete raggiunto posto che la qualità di lavoro che avete gettato fin dall'inizio sarà ottimale a questo punto avete capito come muovervi scaricatevi prendete una o due settimane di scarico attivo passivo su questo torneremo magari in un altro video e da là ripartite più o meno con lo stesso concetto però sin da subito potete per esempio iniziare con la frequenza vostra ottimale e con il numero di serie per singola sessione di stretto muscolare ottimali ok? iniziate di nuovo da là dove avete lasciato a questo punto il vostro step sarà quello di vedere in quanto tempo raggiungete un nuovo re-reaching eventualmente colorare con tecnica intensità però questa è già una fase successiva e non voglio che questo video diventi troppo troppo lungo ragazzi questo è tutto qualsiasi domanda come al solito scrivetela qua sotto sarò ben lieto di rispondere e con questo ci vediamo al prossimo video e buon ritorno in palestra a tutti quanti e buon ritorno